ciao a tutti amici del cancro benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale bene mostrami cancro tendenza energetica e romantiche per la seconda metà di luglio 2024 abbiamo due carte la ruota della fortuna e la giustizia amici del cancro qualche tipo di dinamica potrebbe cambiare nel prossimo nei prossimi 15 20 giorni diciamo che con la ruota della fortuna di solito sono cambi molto veloci e di norma fortunati però se tenete presente che avete anche la giustizia e la giustizia non sempre diciamo agisce come noi vogliamo come noi ci aspettiamo diciamo che potrebbero essere cambi imprevisti mettiamo così adesso andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo è facile che non risuoni tutto se non risuona se nulla se voleste completare il messaggio vi invito ad ascoltare l'ascendente al segno lunare per capire che ascendente siete come unire più oroscopi che cosa sono le cuspidi io ho pubblicato una guida e la trovate sotto c'è il link sotto in descrizione e vi consiglio di guardarla soprattutto se non avete ben chiaro appunto come prendere magari una lettura di tarocchi sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi trovate il link alla playlist per l'oroscopo annuale stagionale ho appena pubblicato le previsioni per il secondo semestre del 2024 e sono quattro una generale una sulla crescita spirituale una sull'amore e gli affetti e l'altra sul lavoro e l'economia è sempre in descrizione ragazzi trovate anche il link per i corsi gratuiti presenti sul canale bene andiamo a vedere le energie disponibili abbiamo un quadro di bastoni un 2 di bastoni un 9 di spade la temperanza la forza e asso di spade dunque ragazzi in questa lettura io potrei parlare della vostra energia o dell'energia del partner o della persona di interesse tenete presente che in queste in questo tipo di letture le energie potrebbero essere invertite se siete single cercherò di dare come delle indicazioni anche per i single ma tenete presente che ho pubblicato una lettura tre scelte e la potete integrare con questa lettura allora partiamo da questo 4 di bastoni che mi dà proprio un'idea di stabilità stabilità di continuità o come la sensazione che sia esattamente un po quello che che stiate bene così come siete nel senso è come se avessero aggiunto un certo tipo di appunto di stabilità adesso andiamo a vedere con i mini tarocchi perché per qualcuno potrebbe far riferimento a una casa visto che comunque anche qui abbiamo la giustizia quindi ci potrebbe essere stato come un raggiungimento di un risultato re regina di coppe qui sento che si parla di una coppia ragazzi ben affiatata anche se poi c'è quel nome di spade che insomma mi lascia un po perplessa però andiamo poi a vederlo adesso iniziamo a vedere questo due di bastoni perché mi dice che probabilmente c'è un qualche cosa che non mi convince del tutto se siete single ragazzo come la sensazione che stiate abbastanza bene ma in un certo senso sognate con avere qualcuno di fianco a voi due di coppe di pentacoli e temperanza che avete già qui ho come l'idea che ci sia un dubbio sul se diciamo concretizzare ancora di più la relazione ho l'idea che ci sia la voglia di guardare al futuro ci sia la voglia di costruire ma c'è adesso vado a vederlo questo nome di spade c'è qualcosa che vi preoccupa all'interno di questa relazione e o come la sensazione che qualcuno di voi pensi che possa succedere un qualche tipo di dinamica che è già capitata in passato può essere con la persona nello specifico o in generale nella vostra vita allora 9 di spade spiegato da un cavaliere di bastoni da un 4 di spade e da un 10 di pentacoli voglio una carta per il 4 di spade amanti al contrario allora la vostra energia la sento pronta pronta per andare avanti pronta per mentre l'energia dell'altra persona la sento come come se ci fossero diversi livelli cioè da un punto di vista diciamo così pratico fisico la persona c'è è presente ma quando si tratta di andare al livello emotivo è come se ci fosse una sorta la sento come una chiusura in realtà direi che la gatta è d'accordo andiamo a vedere un po la temperanza abbiamo un 6 di bastoni e un 8 di coppe voglio andare a vedere anche la forza carro e cavaliere di pentacoli guardate ragazzi sento che nel prossimo periodo le cose saranno piuttosto in equilibrio tra di voi l'unica cosa è che probabilmente voi siete un pochettino più lanciati verso il futuro mentre l'altra persona come la sensazione che abbia ancora un po da smaltire della roba vecchia qui con questa con questo carro ho come l'idea che ci sia bisogno di andare avanti di fare qualche tipo di passo concreto rispetto alla posizione dove siete già come se ci fosse bisogno di qualche cosa in più e sento che fa parte di tutta quella cerchia di riconoscimenti apprezzamenti il sentirvi dire da parte dell'altra persona che siete importanti cioè come questo bisogno di verbalizzare difatti poi terminiamo anche con un asso di spada andiamo a vederlo torre non so è che con quest'otto di coppe la carta della temperanza qui considerato che ce la diamo anche qui è come se vi dicessero chiedetevi che cosa è veramente importante per voi avere quell'ufficializzazione verbale o rendervi conto invece che magari l'altra persona ogni volta che voi scrivete c'è è presente e come vi risponde c'è un po come dare una diversa valutazione a quello che già avete sento l'asso di spade spiegato da una torre da un 4 di bastoni siamo a vedere la torre un attimo ragazzi ho l'idea che le cose non vadano poi così male tra voi e l'altra persona anzi direi che c'è piuttosto equilibrio c'è reciprocità mi viene da dire c'è anche come questa voglia di guardare al futuro però è come se voi foste più pronti rispetto all'altra persona vi dico l'asso di spade con la torre mi sa tanto di ultimatum come se ad un certo punto diceste all'altra persona regolarizziamo la situazione o la relazione si può trattare anche di comprare casa di cambiare casa per qualcuno magari proprio la decisione di andare a convivere c'è un qualche cosa con questa giustizia che va giustamente ricalibrato e qui avete anche due volte la carta della temperanza sento che proprio quello di cui avete bisogno una sorta di riequilibrio nella situazione o nella relazione vi dico c'è questa voglia di iniziare cioè più che di iniziare di guardare al futuro e di costruire però è come se con questo asso di spade si dovesse parlare chiaro si dovessero dettare le regole da subito sto guardando se mi viene qualche cos'altro da dirvi però come l'idea che l'altra persona possa essere un po spaventata dai legami in sé dalle unioni ufficiali oppure si è si è scottata questa persona nel senso che ha già avuto una brutta esperienza ed è un po titubante nel costruire o nell'ufficializzare qualche cosa la relazione la senti in armonia comunque ok però ecco come se ci fosse una sorta o di andi e rivieni da parte dell'altro oppure una sorta di concretezza nel senso che c'è a livello fisico è presente questa persona però quando si tratta di iniziare a parlare ecco lì è come se ci fosse una sorta di chiusura fatemelo sapere poi nei commenti ragazzi andiamo a vedere il liching che cosa vi dicono carta numero 48 la sorgente adesso vediamo andiamo a vedere nel libro come lo traduce per chi non avesse ancora visto questi oracoli io ho comprato il libro in un momento diverso rispetto a quando ho comprato le carte quindi le traduzioni sono diverse allora nel libro viene tradotto come il pozzo e la spiegazione è nell'antica cina anche quando le capitali venivano trasferite la forma del pozzo rimaneva sempre la stessa e lo è anche oggi il senso della frase non è difficile per quanto mutino gusti indrizzi tendenze per quanto siano diversi uomini la matrice la sostanza non cambia ma non diminuisce non aumenta e i nostri doveri sono sempre uguali il cambiare d'epoca non cambia l'imperativo unico ognuno degli uomini potrà attingere sempre a quel che di immutato e di inesauribile porta in sé la sua natura ci sono però due pericoli il primo che non si arrivi a vedere bene dentro di noi e qui mi spiego l'otto di coppe ragazzi ad attingere in fondo la nostra anima si faccia tutto a mezzo a metà e si rimanga in una mediocrità squallida vedi molti uomini piccoli e segretti calcolatori e meschini adoratori delle convenzioni della forma il secondo pericolo sta nella rapida discesa verso la bestialità l'ignoranza più profonda il buio a cui porta la trascuratezza verso la natura divina che c'è in ognuno di noi c'è una frase buddista credo che sia buddista in realtà non sono pienamente sicura però comunque la frase dice così e ben minuti mente perché anche questa parla di pozzo e dice è inutile che tutti arrabbi nei confronti del pozzo perché ogni volta che vai a prendere l'acqua il pozzo è asciutto chiediti piuttosto perché continua ad attingere acqua in quel pozzo e rende abbastanza bene l'idea anche questa secondo me è come se doveste cambiare strategia con questa persona o in questa situazione ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti se volete sostenere il canale potete mettere like potete iscrivervi condividere il video anche lasciare una piccola donazione se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail oppure abbonarvi al canale date un'occhiata alle playlist degli abbonati sono quelle con le copertine lilla i titoli sono visibili così vi rendete conto di che tipo di lavoro stiamo affrontando bene io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao